Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono contento che siate qui. Probabilmente molti di voi hanno seguito anche le precedenti due edizioni di questi Stati Generali. Io credo che sia importante la continuità. È facile fare una fiammata, una tantum. È più difficile trovare invece il passo regolare che ci porta ogni anno a condividere questa riflessione su come la scuola sta cambiando nella direzione del digitale. Quindi io ringrazio ovviamente l'Ufficio Territoriale Scolastico e l'Associazione Impara Digitale che con noi sono gli organizzatori di questa iniziativa. Il titolo di quest'anno è Il Digitale Oggi, com'è cambiata la scuola? Allora io so che dall'inizio, cioè da due anni fa, non vent'anni fa, il contesto è certamente cambiato e continua a cambiare molto rapidamente perché il digitale pervade costantemente sempre di più ogni aspetto della nostra vita. È cambiato il mondo del lavoro, sta cambiando profondamente, non soltanto perché è stato varato un piano all'insegna delle tecnologie digitali che si chiama Impresa 4.0 che molte imprese di questo territorio hanno adottato, hanno utilizzato per sostituire i propri macchinari e aggiornare le competenze dei propri collaboratori, ma perché sempre di più le catene del valore sono appunto attraversate dalla rivoluzione digitale. È cambiata e sta cambiando la pubblica amministrazione, il Comune di Bergamo sta facendo grandi sforzi per aggiornare i propri strumenti e le competenze dei propri collaboratori alla luce della rivoluzione digitale. Abbiamo collaborato con il team per la trasformazione digitale per varare il progetto dell'identità digitale, abbiamo implementato quello che si chiama Pago.pia, cioè il sistema per i pagamenti elettronici, siamo tra i primi comuni che partecipano all'anagrafe nazionale della popolazione residente. Abbiamo usato il digitale per trasformare il nostro sportello unico per le attività produttive e farne uno strumento online di dialogo con le imprese. Abbiamo un wifi tra i più efficienti e usati d'Italia, una città di 120.000 abitanti, ha oltre 200.000 utenti del servizio wifi pubblico gratuito. Abbiamo collegato 55 scuole con la fibra in modo che nelle vostre scuole in città sia possibile utilizzare la banda nella sua massima estensione e questo ci ha portato insieme a tanti altri indicatori di crescita della città ad essere la quinta città in Italia nella classifica di high city rate che è quella che in qualche modo misura l'intelligenza delle città. Ripeto, non è l'unico indicatore, ci sono dei fattori anche di inclusione sociale e però io credo che essere il primo capoluogo di provincia in Italia in una classifica in cui ovviamente le grandi città sono ai primi posti è un motivo di soddisfazione e uno stimolo a continuare. Bene, questo è il contesto, la domanda però del titolo è come è cambiata la scuola? sono stati gli anni di implementazione del piano nazionale per la scuola digitale come sapete. Grande fermento, grandi discussioni, grandi occasioni di confronto non soltanto in questo contesto, grande condivisione tra voi docenti con i dirigenti scolastici, scolastici condivisioni. La domanda è, c'è stata vera trasformazione? Io ho letto una recente riflessione di Dianora Bardi che conoscete perché è l'anima dell'associazione Impara Digitale, piuttosto critica su questo punto, perché Dianora dice no, non è vero, poi magari lo dirà direttamente, non lo devo più di tanto anticipare io. C'è stato appunto molto fermento ma alla fine abbiamo sì, più aule digitalizzate, a redi colorati, ma la trasformazione è abbastanza di facciata, non ha colto in profondità il tema. E qual è il tema? Il tema è che i ragazzi stanno cambiando. L'uso pervasivo di strumenti digitali sta cambiando la testa dei nostri figli, dei vostri allievi e su questo punto probabilmente la riflessione è insufficiente, anche perché mancano delle linee guida, mancano occasioni di formazione degli stessi insegnanti per campire un po' meglio. Esiste una funzione sui telefoni di tutti noi, sugli smartphone, io non sapevo che esistesse, non so se si è attivata da solo, da qualche giorno, dell'ultimo aggiornamento, comunque mi dice per quante ore al giorno ho usato quello smartphone. E' una cosa che mi ha fatto impressione perché io non uso solo lo smartphone, uso anche il laptop, altri strumenti digitali, ma arrivo a fine giornata e mi dice oggi l'hai usato per cinque ore. Cinque ore! E probabilmente i miei figli lo usano anche di più. Allora quello che stiamo forse non cogliendo fino in fondo è che questa cosa cambia la testa delle persone. Quindi non ci si può stupire più di tanto che i ragazzi in classe siano magari un po' disattenti, un po' svogliati, che sembrino abbastanza lontani da ciò che gli viene spiegato con modalità tradizionali, tutto sommato perché è vero che abbiamo parlato tanto di digitale, ma il core della scuola è rimasto abbastanza lo stesso. Perché la loro testa nel frattempo è cambiata. Allora io credo questo, che quello che a noi serve è approfondire. Dianora fa la sua proposta, dice ci dobbiamo fermare, dobbiamo fermarci, riflettere, non possiamo andare avanti così senza capire la direzione. Non so se sia giusto fermarsi perché quando le cose corrono così velocemente anche fermarsi è una responsabilità. Però io credo che questo pezzo di riflessione lo dobbiamo fare. Voi lo dovete fare perché diceva bene Luca Attias e diceva bene prima Quintarelli non vi aspettate che questo giro arrivi dall'alto la risposta. Io non me l'aspetto. Il fatto che non ci sia oggi nessun rappresentante del governo, a parte il commissario straordinario, per me è già una risposta. E quindi penso che invece sia molto importante e necessario che le risposte vengano dal basso. Ed è utile quindi la ricerca che è stata condotta da ImparaDigitale insieme al CNIS su 1300 ragazzi delle scuole primarie per capire come stanno cambiando, come sono cambiati i meccanismi di apprendimento. Perché questo è il punto a mio giudizio. Quindi io rinnovo la promessa di continuare a fare negli anni prossimi, se poi continuerò a fare il sindaco a maggior ragione, questo appuntamento perché credo che possa essere un'occasione utile, non l'unica ovviamente, per aggiornare costantemente questa riflessione. E faccio mio lo spunto che veniva dalla conversazione di prima, cioè credo che noi dobbiamo investire sulla formazione dei formatori, sulla vostra formazione. A Bergamo esiste un'università che è cresciuta molto in questi anni e che al suo interno ha un corso di laurea in scienze della formazione. Allora quello che mi piacerebbe fare è provare a proporre al rettore dell'Università di Bergamo di dedicare particolare attenzione alla formazione digitale, cioè fare di Bergamo un polo di formazione di educatori alla cittadinanza digitale, di quegli specialisti di cui parlava Luca Attias prima. E in questo caso se la proposta sarà accolta io spero di avervi anche tra coloro che avverranno aggiornare le proprie competenze partecipando ai corsi dell'Università di Bergamo. Grazie a tutti e buon lavoro.